Il tema dell'ufficio è la passeggiata. Lavorare vuol dire passeggiare. Non è per scherzare, soprattutto se si pensa che la filosofia è nata passeggiando. Vuol dire che andare in ufficio vuol dire andare a camminare, vuol dire andare a trovare una ragione per evolversi, andare a trovare qualcosa che permetta di fare un passo in avanti. Quindi tutto è improntato ad una passeggiata, un'unica passeggiata che fa un giro attorno ai quattro stand che compongono questo stand e che permette di visitare tutto quanto in un percorso circolare che continua all'infinito. Guardando sul modello la passeggiata si capisce nella sua interezza e si capisce proprio questo percorso infinito, questa specie di anello di Moebius che continua e che rende tutto quanto percorribile all'infinito senza mai fermarsi. La passeggiata è chiave. Lungo questo percorso della passeggiata sono organizzate delle proiezioni, delle installazioni, delle delle spiegazioni che man mano che il visitatore passeggia vengono riportate e vengono rintrodotte per far sì che la passeggiata sia proprio concreta, fattiva e efficiente in tutto il suo percorso. La passeggiata è proprio un muoversi, un camminare, un vedere dall'alto, un penetrare dentro gli ambienti, un domandarsi continuamente che cosa sta succedendo e come si possono interpretare ed evolvere i singoli eventi, le singole situazioni. Il Belvedere è il luogo più alto di tutta la passeggiata, è il punto di vista dove si può con lo sguardo raggiungere tutto e ricoprire tutto e tendenzialmente a capire tutto. È probabilmente il luogo di incontro dove le persone maggiormente si cercheranno e il luogo degli appuntamenti dove chiunque potrà dire ci vediamo lì sopra al Belvedere, sopra il ponte che unisce tutte le strade.